ciao allora spero che siete pronte per questo video perché vista la mia passione da wish perché non provare anche con le palette di make up che io amo le palette e quindi amo wish amo le palette proviamo allora mi sono buttata e ho preso questa palettina allora questa è la novo fashion classica l'ho pagata 2 euro ben 2 euro perché era gratuita e ho pagato solo la spedizione allora 15 grammi di prodotto contiene 10 ombre che oltretutto sto testando ed è ora che vi mostro perché alcuni hanno davvero il buco dunque 10 ombretti come ho fatto vedere a aprendola allo specchio grande così allo specchio per tutta la grandezza e allo spazio anche per un pennellino che io hashtag professionalità ho subito messo da parte comunque il pennellino è questo una parte con la gommina e una parte con e delle setole allora vi faccio vedere un secondo i colori questa qua questo è sempre sui dei colori che piace da me quindi il marrone rosa il bronzo i colori classici cerco di togliere lo specchio e sono questi quindi abbiamo degli opachi dei shimmer dei metallizzati un po di tutto pensavo di farvela vedere un secondo perché capirete che ci sono dei prodotti dei colori che ho davvero usato tanto e altri che invece ho usato meno quindi inizierei iniziamo da sinistra inizierei da questo che è il più chiaro e andiamo in fondo allora il primo che vi mostro è questo qui che è un perlato ok non so se farvelo vedere provo a farvelo vedere appena appena che io comunque lo uso per uniformare la palpebra perché resta quasi impercettibile con il pennello che alla fine potrei usare perché forse viene su meglio si si vede un po di più poi il secondo che come potete vedere c'è davvero il buco c'è perché io a quello che direi che uso di più perché andiamo a scavare è leggermente luminoso e quindi io lo uso come punto luce adesso non so se si riesce a vedere qualcosa si vede solamente alla fine che non resta colore ma resta questo punto luminoso che io vado a usare comunque è nell'angolo interno dell'occhio poi iniziamo con i colori e qui c'è una carellata perché abbiamo eccoci qua un color pelle poi sempre opaco quindi adesso vi mostro i tre opachi un mattone e un marrone i tre opachi quindi uno due tre partiamo col color pelle il color carne che è questo poi abbiamo il mattone e poi abbiamo il marrone opaco ok adesso ve li mostro se riesco quindi il pelle che si vede appena appena poi abbiamo il mattone e il marrone opaco ok e questi erano i tre opachi poi andiamo con i shimmer che ne troviamo due di shimmer quindi abbiamo un rosa con un sottotono bronzo che è questo e poi un marrone shimmer anche questi cerco di mostrarveli il ragnetto rosa ho messo tantissimo quindi non si può non vedere e il mattone marrone che è un bronzo ok andiamo avanti perché io come come spiego i colori allora poi finiamo con un altro marroncino più scuro e un marrone opaco tutti e due scuri allora aspettate che mi pulisco le mani se no è impossibile che si faccia uno swatch chiaro allora abbiamo detto il marroncino più scuro opaco che è questo il marrone opaco che è questo sempre un marroncino e il marrone e finiamo con l'ultimo che è uno shimmer shimmer si marrone più scuro che è questo qui ecco allora vediamo di pulirci le mani e poi ne parliamo allora eccoci ci siamo dati una leggera parvenza di pulizia cosa dire di questa palettina vale 2 euro sicuramente ma è carina perché comunque ha dei colori portabili sia da giorno che da sera stratificabili ci si può giocare bene ha una buona combinazione di colori come si può notare ovviamente quelli con il buco sono questo che uso per sfumare o per dare un attivo punto luce alle nell'angolo interno dell'occhio e il marrone più scuro perché quello che uso nella piega dell'occhio per dare intensità magari un qualcun altro poteva andare bene ma comunque ha una buona varietà di colori ci sono degli opachi ci sono degli shimmer ci sono dei più chiari dei più scuri è fatta bene diciamo che i colori li vedete anche voi sono piccini cioè il dito è questo e devo proprio spingere perché forse nel mignolo questo è il mignolo ecco alla dimensione del mignolo quindi sono piccini ma ricordiamo che è una palette da 2 euro allora si stendono bene sono abbastanza pigmentati alcuni più alcuni meno diciamo che sicuramente queste due io le uso solamente per uniformare la palpebra o per dare luce questi sono poco più pigmentati questi due perché sono i più chiari e anche quelli shimmer sono comunque colori che io utilizzo in tutta la palpebra poi dopo con i più scuri vado un attimo a definire vanno bene anche da sumare si sumano bene tra di loro è una è una scelta di colori che comunque sta bene si accorda bene per qualunque tipo di trucco questo sicuramente sono alcuni più polverosi di altri quindi ho notato soprattutto che gli opachi sono abbastanza polverosi però quelli che fanno più fallout cioè gli opachi quando li vai a prendere su sono quelli che lasciano più prodotto in giro ma quelli che fanno più fallout sono quelli shimmer sicuramente ma normalmente gli shimmer fanno sempre un pochino più fallout degli altri quindi normale durano abbastanza io uso il primer alla sera ci sono colori che sono un pochino spariti altri che ci sono di più volendo posso andare a ritoccare durante il giorno tranquillamente per il fatto di problemi agli occhi perché sono comunque i trucchi cinesi non mi hanno dato nessun tipo di problema e io ho gli occhi abbastanza sensibili soprattutto alla palpebra abbastanza sensibile e non mi hanno dato problemi diciamo che sinceramente non vado ad applicarlo nella rima interna quindi fuori dall'occhio sì così ma a tamponare la matita no non esageriamo comunque comunque devo dire che per una palette da due euro mi è piaciuta perché ha una vasta selezione di colori poi ho scelto questa sui toglie del marrone ma ce ne sono tantissime davvero di tutte le varie sul rosso sul verde sull'azzurro cioè sull'arancione sui bronzi ce ne sono davvero tantissime e mi è sembrata una palette abbastanza carina sinceramente l'ho trovata più o meno qualcosa in più anzi qualificativamente ed è migliore rispetto a quelle della essence e quelle dell'essence hanno meno colori e costano di più ricordiamoci sempre che la palette da due euro e quindi mi è piaciuta oltretutto è arrivata bella imballata nessun prodotto era rotto è abbastanza piccolina soprattutto è sottile mi è piaciuta quindi fatemi sapere se vi ha incuriosito vi è piaciuto questo tipo di video con le palette di wish o comunque con le palette online da quei siti cinesi tipo io uso wish ma c'è aliexpress c'è zoom ce ne sono tanti penso che sono curiosa e magari in futuro potrei fare un altro video di questo tipo vedete che da questa angolatura sembra che si vedano meglio i colori ok comunque sia è carina ricordiamoci due euro certo e non abbiate troppo fretta perché se la prendete adesso vi arriva tra se va bene due mesi ma comunque sia arriva e quindi non c'è problema è anche carina bella compatta adesso che lo specchio anche da viaggio la borsetta è alla plastica bella resistente oltretutto e quindi basta parlare sempre che se vi è piaciuto questo video se vi è incuriosito se vi è divertito mi raccomando di mettergli un like iscriviti al canale così non perdete le prossime recensioni beauty in questo caso molto low cost ed è mi raccomando anche cliccare sulla campanella così verrà avvisata ogni volta che carico nuovo video e alla prossima ciao 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 ciao